Benvenuti su Gossip Italia 24. Prima di raccontarvi cos'è successo, sosteneteci lasciando mi piace al video e iscrivendovi al canale. Per noi è molto importante, grazie. Oggi la neomamma Woboda Morris lascia l'ospedale con il suo neonato, dopo un parto complicato. I primi giorni sono stati difficili, come aveva rivelato il 30 maggio annunciando la nascita del piccolo Gian Maria. Una complicazione, mai spiegata pubblicamente da lei e dal suo futuro marito, lo chef Enrico Bartolini aveva generato molta apprensione. Adesso, però, è il momento di gioire, il giorno più bello della mia vita. Ora posso dirvi che mio figlio sta bene, scrive la conduttrice 38enne sui social. Grazie all'intervento tempestivo dei medici, sia la madre che il bambino sono riusciti a superare tutte le difficoltà. Questa tempesta passerà presto, lo meritiamo entrambi, lo merita il nostro bambino e così è stato. La 38enne sorride felice e saluta lo staff della clinica Mangiagalli. Roberta Morris torna a casa con il compagno, che sposerà il prossimo 31 agosto in Toscana, e con il loro figlio. Tira un grande sospiro di sollievo e guarda avanti alla sua nuova vita da mamma con il cuore pieno di gioia. Tutti noi facciamo gli auguri ai neogenitori e al piccolo Gian Maria. Ricordatevi di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati gratuitamente. Grazie di cuore.